Questa è una norma che tutela chi oggi ha già un'auto, perché non andiamo a chiedere un soldo a nessuno ovviamente, tutela chi sceglie una macchina utilitaria e quindi se volete in qualche modo i cechi... Ma non è vero, la Panda 1200 a benzina Euro 6 costerebbe 300 euro in più, per esempio, quindi... Potrebbe scegliere di comprare un'utilitaria che magari è una Panda 1000, per questo non entriamo nel dettaglio. Quello che però è importante... No, no, nel senso, lei mi ha fatto una domanda di cosa succederà al Senato, quello che succederà la prossima settimana è questa, che Di Maio ha convocato tutte le categorie e ci si parlerà con loro affrontando questo tema, facendogli conoscere come è fatta la norma, insomma, entreremo nel merito. E il dialogo con le categorie produttive dell'automobile servirà anche per capire che cosa dentro i loro piani industriali si prevede per una conversione.